Le note del silenzio Buongiorno, prego mi dica Sì, siamo noi Esatto, ci occupiamo del suo corpo Ma anche della sua mente Perché questo è un centro benessere Con trattamenti ASMR Non ha appuntamento Non c'è problema in questo momento Non c'è nessuno Quindi possiamo occuparci di lei Io sono Carlotta, molto piacere Possiamo passare direttamente Cioè proprio adesso può fare il trattamento Perfetto Allora, direi che innanzitutto Che tipo di trattamento vuole fare? Ai piedi, molto bene Vuole applicare semplicemente lo smalto Allora Il trattamento che in genere va per la maggiore È quello ammorbidente Cioè noi andiamo ad applicare Attraverso un asciugamanino Ovviamente il trattamento è Va ad aiutare e ad ammorbidire entrambi i piedi Parlo di entrambi i piedi Con questo asciugamanino Andiamo ad ammorbidire il tallone E tutta la pelle Del piede che molto spesso Con duroni, galli Scripolature Esatto Anche per calzature Poco adatte Al nostro benessere Al benessere dei nostri piedi È la parte più delicata Del nostro corpo Quindi andiamo A scaldare Questo asciugamanino È un semplice asciugamanino Che sarà poi Imbevuto Con un prodotto 100% naturale All'interno di questo prodotto Per esempio C'è del burro di karité Andiamo ad avvolgere I suoi piedi E lasceremo scoperte Le unghie Così potremo farle Sapete chi ora? Il trattamento Dura all'incirca Una decina di minuti Affinché il prodotto Venga ben assorbito Dal primo strato Di epidermide Esatto Le va bene questo trattamento? Vuole sapere subito il costo? Va benissimo Va benissimo Allora Ci occuperemo di lei Io Sul piede destro E la mia collega Sul piede sinistro Quindi ecco Insomma Avrà Saremo in due A lavorare per lei Per il suo benessere Per il suo relax D'accordo? Io direi che possiamo Incamminarci Andiamo nella sala accanto E Cominciamo questo trattamento Per ammorbidirle La pelle D'accordo? Andiamo Venga con me Prego Ok Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ok. Ora le vado a mettere l'asciucamane intorno al piede e la mia collega farà altrettanto per il suo piede sinistro. Dopodiché passiamo alla stesura dello smalto. Ok. Bene, passiamo dunque a questa seconda fase. Spero che i suoi talloni e la pelle del suo piede si stiano ammorbidando grazie a questo trattamento speciale. Andiamo dunque a mettere lo smalto, ma subito prima andiamo un po' a limare le sue occhie. Penso che non ci sia molto bisogno, però andiamo un po' solo a rinforzarle e a lucidarle. Questo trattamento serve per togliere la parte in eccesso di un ucchia. In qualche modo renderla più omogenea e liscia e piatta. E il secondo trattamento può appunto allucidare le ucchie ed anche se le sue saranno coperte dallo smalto, non importa. Ecco, guardi come sono lucide le sue occhie, potrebbe quasi sembrare uno smalto trasparente. Io di solito applico la base, vuole che le metta una base. Perfetto, allora andiamo direttamente con questo smalto. Guardi, non so quale preferisce, se questo marrone è molto caldo, questo ginsato che è un pochino, è ovviamente più freddo. E poi è una via di mezzo, che secondo me è la migliore, che è questo qui. È un bel rosa acceso, leggermente. Quindi, ha una punta di aranciato, secondo me, al suo interno, che ne dice. E va bene, ha vinto lui. Allora, questo pochino è una punta che si chiama Odd Red Chili. Partiamo dall'unghia più piccolina. L'importante, quando si applica lo smalto, in realtà sarebbe lasciare un pochino di spazio lateralmente e non coprire totalmente l'unghia. Di modo che il tutto sembra davvero più omogeneo. Ma lei ha delle unghie. Mi scusi, non volevo dire più omogeneo. Volevo dire che le unghie sembrano più lunghe. Mi perdoni. Ma lei ha già delle dita molto lunghe, quindi direi che possiamo farne meno. Ha delle unghie e delle dita lunghissime. E complimenti perché riesce a stare in questa posizione, vero, ma? Sì, davvero. E infine andiamo sull'ultimo dito che però da un lato è davvero il più importante. E' stupendo questo colore. Che ne penso? E beh. Certo. Certo, assolutamente. Bene. Io mi auguro che lei sia soddisfatta. Che ne dice? Beh, perfetto allora. Spero che tornerà a trovarci. Adesso può restare ancora un po' con il trattamento. E poi la mia collega che si è occupata del suo piede sinistro si occuperà di lei anche in questo senso. Adesso si rilassi ancora un po'. E io sistemo qui d'accordo? Certo. Certo. Non si preoccupi. Però. Certo. Non? Grazie. Grazie.